Sì, 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 me la prendo tutta questa vittoria, me la prendo tutta Soffrendo, andando in blackout sui due gol dell'Udinese Ma comunque approcciando la partita nei miglior dei mondi in tutti i due tempi E ragazzi, il gol a fine, primo tempo del Toro che oggi fa doppietta È importante, è importante come il pane Il pane per noi tifosi Pronti via Frattesi, inserimento sulla palla di Darmian e Okoye Fa il resto, non riesce a intercettare la palla di Frattesi E qui di Frattesi riprende da dove aveva finito 1-0, ma il gol di Cabasele è una dormita difensiva Su una palla alta in cui Cabasele svetta da solo e batte Somma, ma il Toro si deve svegliare nel momento Clou E il momento Clou è il 48esimo del primo tempo Su errore di Biciol lo punisce E poi la insacca Dove Okoye non può arrivare E all'inizio del secondo tempo, esattamente al 47esimo No, l'errore di Biciol Arriva al 47esimo È il 48esimo del primo tempo È un'assistenza di Di Marco per Lautaro Martinez Che tira La palla è deviata da Biciol Ma il gol è tutto del Toro 47esimo Il secondo minuto della ripresa Turam Sfrutta un errore di Biciol La va all'autaro Martinez Che si gira E batte Okoye Palla a fil di palo E Okoye non può arrivare Sembra tutto fatto Sembra tutto fatto Ma all'86esimo L'Inter spegne la spina Cialanoglu perde un pallone a centrocampo E Ludinese va in verticale Con Luca Davanti a Somme Che segna Segna anche Taremi Alla fine della partita Ma con fallo Ma va bene così Va bene così È entrato anche Correa Madonna 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 E Correa ragazzi Ha tirato in porta E stava quasi Per segnare Okoye Ha dovuto mettere in calcio d'angolo Tre punti d'oro Tre punti d'oro E ragazzi La classifica è ancora lì Non si guarda Ma siamo lì Siamo lì Siamo lì con tutti Forza Forza Approcci così Vanno bene Ma Questi blackout Difensivi Si vedono ancora Non va bene Non va bene Non va bene Va bene oggi Perché Hai riscoperto Il toro di Bagia Blanca Il capitano Che l'ha indirizzata I tre punti Sono tutti Suoi Lasciate un like Commentate Iscrizione al canale Qui Qui Da Daniele Azzurro È tutto Sta giocando lo Sheffield Per ore 0 a 0 Domani Video di Portsmouth Sheffield Qui da me è tutto Video Due video oggi Incredibile Per oggi È finita così E noi ci vediamo domani Col football Bella Ciao